Siamo nella fase del disgelo, queste cascate sono ben alimentate da questo disgelo, qui siamo nella parte finale alla partenza dell'Ovovia, è un corso naturale scavato nelle rocce, nei millenni certamente, e guardate una curiosità, almeno un pochettino indietro, questo corso d'acqua ha scavato una galleria, un'apertura, in questo strato di neve, come vedete, in breve ha creato un ponte. Ovviamente è ben sporca, siamo vicini alla strada, comunque si è aperta un barco, la forza dell'acqua, come quella del fuoco e come quella di tutti gli elementi naturali, la pioggia, eccetera, se ne infischia delle regole dell'uomo, ha delle belle regole sue personali e le mette in atto. È uno spettacolo, in tutti questi anni che basti con la montagna non mi ero mai soffermato qua, avevo sempre il programma e però per una ragione o per l'altra avevo sempre rimandato.